Buon anno, buon anno a tutti, primo gennaio si riparte, si riparte forte perché è un mese molto complesso questo di gennaio, perché parte il calciomercato, riparte il campionato dopo la sosta natalizia e vi dico già che oggi nonostante il giorno libero concesso da Stefano Pioli a tutta la squadra in attesa della ripresa di domani per la preparazione della partita contro la Roma, un gruppo folto di giocatori si è presentato spontaneamente a Milanello per allenarsi, questo è un bel segnale, questo è un segnale di grande voglia di sacrificio, di grande voglia di farsi trovare al 100% della forma fisica, mentale, di cura del proprio corpo e dei particolari. Ad esempio vi faccio vedere questa foto, vi mostro questa foto di Theo Hernandez insieme a Brian Diaz e Ficaiotto Mori, scattata proprio oggi a Milanello durante questo giorno libero concesso da Pioli, nonostante questo i giocatori si sono allenati al centro sportivo rosso-nero, ovviamente non erano dovuti a presenziare al centro di Carnago però loro lo hanno voluto fare, questo è un gran bel segnale, è un segnale importante perché gennaio è un mese cruciale e tutto il Milan è concentrato nel partire con il piede giusto, nell'iniziare l'anno questo 2022 con il piede giusto. Tra l'altro subito ci saranno degli impegni molto importanti, degli impegni delicati contro la Roma, poi c'è il Venezia in trasferta, lo Spezia, la Juventus, in mezzo c'è anche la Coppa Italia contro l'ex Andri Shevchenko contro il Genova e poi c'è il calciomercato che affronteremo l'argomento anche in questo video, prima di questo però facciamo un altro passaggio sull'aspetto dei recuperi e degli infortunati perché nelle scorse ore abbiamo dato che Leao e Rebi c'erano vicini al rientro in gruppo e ve lo confermiamo, le impressioni sono buone, le impressioni portano a sottolineare il fatto che questi due attaccanti sono davvero molto vicini al rientro e attenzione perché potrebbero anche farcela per la partita contro la Roma, non voglio fare delle previsioni così troppo ottimistiche però filtra questo messaggio da Milanello e bisogna tenerne conto, vediamo domani perché nell'allenamento di domani potrebbero esserci quindi delle buone sorprese, delle buone novità per iniziare nel migliore dei modi questo 2022, naturalmente questo è l'augurio mio personale per il Milan ma soprattutto anche per tutti voi che seguite il canale. Passiamo anche al calciomercato perché come dicevo gennaio è un mese cruciale non solo per gli incroci in campionato, ci sono due big match ma anche per le manovre sul mercato. Io credo che la dirigenza stia lavorando su due tavoli in questo momento, da un lato i rinnovi di contratto e non sono pochi, sono anche tanti, Leao, Theo Hernandez, Ben Asser, lo stesso Romagnoli e che sì sono giocatori sul quale si sta lavorando. Abbiamo detto perché sì ci sono delle grosse difficoltà, il giocatore è partito per la Coppa d'Africa e tornerà insomma fra un po' di settimane, dipende anche dall'andamento della sua costa d'avorio, così come Ben Asser. Però Ben Asser vuole rinnovare, ha un contratto in scadenza del 2024, potrebbe prolungarlo fino al 2026 con adeguamento di salariale, mentre che si sta continuando a dire di no alle proposte del Milan. Immaginiamo che alle spalle ci siano delle grosse offerte dall'estero, c'è il Tottenham, c'è il Paris Saint Germain, il Liverpool, il Manchester United, sono tutte squadre di Premier, in più c'è la più grande squadra in questo momento in Francia a livello soprattutto di potenza economica che è il Paris Saint Germain. Vedremo, vedremo, ma perché sì la situazione è sempre più complicata. Chi ci sembra davvero molto vicino al rinnovo di contratto è Leao. Leao che vuole essere blindato, lui si trova benissimo a Milano, sta bene, si sta creando una propria famiglia a Milano, si è integrato benissimo nella città e con l'ambiente milanese. Crediamo che non abbia nessuna intenzione di andare via, infatti vuole allungare il contratto, il matrimonio con il Milan. Il suo procuratore è in costante contatto con Maldini e Massara che stanno lavorando quindi al rinnovo del portoghese, che ribadisco sta molto meglio e a breve lo vedremo in gruppo con il resto della squadra. Il Milan lavora anche al rinnovo di Tevernandez, abbiamo detto anche nei giorni scorsi, così come quello di Romagnoli. Romagnoli si sta guardando un po' attorno, ha ricevuto questa offerta al ribasso da parte del Milan rispetto ai 5,5 che guadagna attualmente, sono troppi, 5,5 anche per la proprietà americana Elliot. Il Milan ha proposto un rinnovo circa sui 3 milioni, poi dipende soprattutto dai bonus, lui ci sta pensando. Se dovesse accettare questa proposta il Milan avrebbe così rosa per altri anni Alessio Romagnoli, oltre Kier, oltre Tomori e bisogna vedere poi chi sarà il quarto centrale, perché si sta lavorando sul sostituto di Kier, che è tornato a parlare in un'intervista rilasciata in Inghilterra, lui dice tornerò più forte di prima. È vero, ci crediamo, però prima del ritorno di Kier passeranno diversi mesi e in questi mesi il Milan non può rimanere senza un difensore centrale, ecco perché si sta provando a spingere sull'acceleratore per Bottman, che è il prototipo di giocatore che vorrebbe il Milan per la difesa, forte fisicamente, atleticamente, giovane, di grande qualità, di grande prospettiva, però da quello che abbiamo capito su Bottman è piombato anche il Newcastle e sono piombate anche altre squadre europee, questo vuol dire che non sarà facile per il Milan a prendere il giocatore. Chiedono in Lille quasi, anzi più di 30 milioni di Euro e per questo diciamo che ci sono delle difficoltà, così come per Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, anche lui è stato individuato come un possibile rinforzo in difesa, tra l'altro può giocare sia come centrale che come difensore a sinistra, come vice Teo Hernandez, anche lui è partito per la Coppa d'Africa, partecipa anche lui con il Senegal di Coulibaly e di Ballotouré alla competizione, alla manifestazione africana, quindi non so se può essere proprio l'acquisto giusto per la difesa del Milan. Non ci dimentichiamo anche altri nomi come Christensen in scadenza con il Chelsea, anche lui piace tanto, giocatori che in difesa comunque devono fare la differenza se il Milan vuole prendere un difensore forte, un difensore anche di esperienza internazionale. Le trattative sono aperte, il mercato invernale inizia praticamente il 3 gennaio, un mese anche meno per cercare di mettere le mani su questo giocatore che dovrebbe andare a rinforzare il reparto arretrato, ci sono poche indicazioni invece per quanto riguarda l'arrivo di un attaccante o di un giocatore offensivo in generale e di un centrocampista. In linea di massima il Milan fa sapere che l'acquisto dovrebbe essere fatto solamente in difesa. Noi lasciamo sempre una porta aperta sul mercato perché non si può mai sapere anche le occasioni che propone il calciomercato, ma grosso modo sarà questo lo schema che Maldini e Massara seguiranno nel mese di gennaio. Sono questi i programmi del Milan per il mese che è appena iniziato, per l'anno del 2022 che è appena iniziato, sperando che sia un anno che possa portare a tutti noi sportivi, a voi tifosi del Milan e in generale nelle nostre vite, più serenità sicuramente rispetto agli ultimi due anni che non sono stati affatto semplici. Vi auguro ancora buon anno e ci vediamo presto con altri video e altri approfondimenti.